Ma porca paletta Mi ha cliccato dall'altra parte Comunque a me il mio eroe Non sembrava c'è chissà quale danno No Non riesco a capire se l'eroe Fa questo danno Sono gli altri Le torrette comunque sono broken L'eroe che davanti a lancia fiamme Letteralmente prende fuoco No Povero Rocky Vabbè le torrette sono rotte Direttamente da League of Legends Lei si Abbiamo ottenuto Lucky Che culo È capita Vabbè Perché Fortuna Non era C'era il saldo del 3500% Mi pare di aver letto Mi pare conveniente Sto per shoppare Spallo un attimo Una merda Opla No Ciao Abbiamo scombrato l'aria Possiamo fare nuovo level up Adesso Mi pare No Ma non abbiamo le pommarole Le pommarole Ma dobbiamo Dobbiamo fare più fattorie Te l'ho detto io No Io te l'avevo detto Allora le spam Aspetta Spam fattorie Ma non i soldi Ah no Ah ma c'è giustamente Un cup Posso fare Un piccolo acero Stai facendo Ma che cacchio Stai facendo Stai facendo Ho messo Di aceri Ma hai letto Almeno che cacchio Fanno Ah ma Ho sprecato Tutte le mie cose Sì Vabbè metto un falò Apparentemente questo è Tutto l'acero Prende questo potenza Ed edifici vicini Però vabbè Non fa niente Facciamo così Ma ho usato tutti i miei Sì Ho usato tutti i miei Robi Tutti i miei veri Quartiere generale Livello 5 Allora ragazzi Ci serve Centro informazione Livello 1 Adesso lo posso fare Devo prima Ascitare questo Aspetta Ma che cacchio Di ragazzi Che stiamo andando Belloci come il vento Ma la dita è sciocchezza Cazzo Cioè tra poco Già sono al 14 Probabilmente io Vi sto facendo vedere Come si speedrun Ma perché uno Devrebbe speedrun Beh deve fare Oh Mi ha grabato quello Hai visto No ma così Muore l'eroe Muore l'eroe Ehm È arrivato il cane A tancare Chilling C'è stato un po' di È tornato l'audio No Se ne è riandato Per un attimo Era tornato l'audio Vi dico Poi è Risparito Boh Ma va Ma va Ma non dire sciocchezze Ok Altra piccola Ricompensa Adesso possiamo Riparare questo Finalmente Ma questa è una gilda Ultima speranza La dobbiamo fare qua L'esco L'esco Sto le due livelli 7 Il prossimo Sarò io ragazzi Ci sono quasi Ma Colpa mia Devo cliccare lì Oh Vedi che ci sono Gli altri player L'esco Il camionetto Ok Soccorso è riuscito Direi che posso Tornare Ok Voglio su tutto E basta Riprendo un po' di diamanti Sono stufato Ok Possiamo fare la miglioria Del cosino qua Cosa ci serve? Ancora le boomerolle Ci mancano Mannaggia Ah ma non ha migliorato Queste Deve migliorare Stefi Vedi Questo bisogna fare Figliare 5 Ora si che siamo I produttori di boomerolle Ecco perché Non ne facevo abbastanza Le ricompense giornaliere Aspetta Innanzitutto io voglio Bene Dove? Qua? Vortex Non lo so Ho sbagliato Non lo so Vortex Ma che ho fatto? Ok Ma non volevo la chat Ma la possiamo Le varie? Bene Bene Come si aveva la chat? Ok Prendiamo questi reward Sono importanti Capitolo completo Let's go Reward Le quest Altri reward Da qua Ok Le missioni dici? Le missioni Oh posso fare level up? Doviamo potenziare lui? Lui No aspetta Aspetta Vai E Qua Ok Stonks Adesso Sicuramente Centro A livello 5 Dobbiamo fare questo Boom Ora possiamo fare A livello 6 Ok Ce l'abbiamo fatta 12 minuti E ci siamo Poi Riscattiamo questo Poi Riscattiamo le missioni 1 2 3 4 E Ok Ho riscattato Dei premi E qua anche c'è del rosso Dei vorrei dimmare altro Ma un mare di base Non romperò cazzo Questa è la chat Aspetta Dobbiamo fare questo E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riparare questo Lo possiamo addestrare Dicono Zaino Zaino Se ha gettoni Vedi i gettoni E lo zaino Quali sarebbero i gettoni Se ha gettoni E lo zaino Dimmi se la mia chat È astuta Cioè uso questo Questi sono i gettoni Eh Vedi Posso Migliorare la velocità Dei miei Perfetto Poi Usiamo tutti questi Ma basta Tanto Sicuramente serviranno Pla Questi non me li posare Questi non me li posare Questi sono gli acceleratori Vabbè Risorse E Questo non ci interessa Questo non ci interessa Questo lo prendiamo Questo lo prendiamo Direi che abbiamo finito Ok Ok Eh Eh Con 5 Mi trovo Adesso Oppa Livello 6 Mi manca un solo livello Capiamo Vabbè Fatto il livello 7 Dobbiamo fare... Ah, il famoso elicottero Mi ero dimenticato l'elicottero Clicchiamo questi Dallo zaino Intanto vado al mio insediamento Entro qua a fare il ride Queste le ho migliorate tutte Poi questa la possiamo migliorare No, aspetta Però forse non mi conviene farlo a caso Qua? Uh, il gambling Let's go Vai, andiamo Gasha buon fortunati Ma abbiamo le cose per farlo? La fine sembra vicina Gli infetti sono scatenati Non in te è stata battuta In tutto il mondo Rottiamo proprio La speranza è difficile Ok Riscatti reward Stonks Qua è qualcosa No, ma questo evento Sembra per player avanzati Torniamo al nostro insediamento Devi cliccare in basso a sinistra Non ti preoccupare Sword Art Online Lingua Espanol Siete nostri? Sono di loro Bella mossa capo Adesso facciamo parte dei Sword Art Online Team Weebu Leader Kirito Proprio lui Ma lo sai che tra un po' faranno anche la versione SOS SOS Di Sword Art Online UV Che ne pensi di questo boss soddisfatto? Trasferisci Ma sì, trasferiamoci Perché no? Change is good Vai Buff insediamento Vabbè I buff usiamo un'altra volta Questa è la nostra alleanza Che rank siamo Con la nostra alleanza? Potenza 37 milioni Sviluppo pacifico Leader Kirito Lingua Espanol Molto bene Intel Ah perché questo ti fa Ho capito Ho capito Ti fa redare questi affari qua Bene Marciamo Vediamo il nostro accampamento Qua bisogna curare le persone che hanno fatto la marcia Qua possiamo addestrare truppe Vai su Gashapon Gashapon Vai alla pagina Vai Vai Steffi Carica No questo devi No di usare l'altro gratis Mi sa L'altro Gratis Rolla Rolla Che hai fatto? Il prossimo giro tra 24 ore Steffi mi è cedro l'auto Non è uscito niente Ma che schifo Vabbè io non ho parole Guarda Prendi le monete Dove? Prendi le monete Ma siamo d'accordo Che se le sono sognate queste monete Centro ricompense Set di crescita Vip richiesto Spedizione Aspetta Intanto a destra Le arcieri Perfetto Poi Intanto redimo questi Poi Intanto redimo questi Poi Io Sì un attimo Solo sto spalando No dobbiamo dire come fare l'illuset ragazzi Migliora Centro eroe L'illuset Quindi prima cosa Questo Boom Non l'ho cliccato Porca paletta Ehm Ehm Boh Basta Aspetta sto 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 Ricibendo del legname Ma non c'è C'è 388 click Devo fare Aspetta Grazie Quello da 100k So farebbero io Brava No qua ci sono Packet No Ho fatto Ah le monete Te l'ho detto C'erano le monete Adesso abbiamo le monete Ah puoi girare Perché 10 monete Vai Rolla un po' Stefi Oh questo è raro Diamanti Gira ancora Gira ancora 40 volte Quindi esatto Voleci diamo un po' Esperienza Umaro Fammi vedere Ok Ancora 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 Mi sta piacendo questo rolling Compulsivo Ciao lady come stai Vai Vai Gira 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 Ma quanti ne abbiamo Dai 40 volte Sarai a 20 Sei pronta per fps Guarda Guarda come spai Puh 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 Headshot Stavo su overwatch Ecco se lo fai schifo Eh no Su overwatch Con sombra Temtem Riportissima Lo sai sombra L'anno 6 Quella che cura Fa danno Quella con la mano strana Ok adesso siamo Pieni di reward Boys Let's go Abbiamo poche pommarole Come abbiamo poche pommarole Ecco perché Guarda Tutti 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 Adesso siamo 1.049 Non so Tante pommarole Poi non possiamo fare tutto Non abbiamo ancora skin Dell'headquarter Percato Facciamo un attimo Il centro eroi Ehm Acceleriamo Sì Poi Che altro ci manca Per fare il set A livello 5 Poligono Migliora 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 E adesso Boys Chi è che ha fatto il livello 7? Chi è che ha fatto il livello 7? Boom Chi è? In 5 minuti di game 7 minuti di game E' arrivata la notifica E' arrivata la notifica Let's go Quanti ne mancano? Uno Uno chat Solo uno Vai Adesso lo facciamo con il mio pc L'alleanza ci sta aiutando Credo Gestisci Ok Bene Marciamo un po' su No Vortex No 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 A farle Di fare più account Per il gioco Si no Non fatelo ragazzi No assolutamente Allora Ehm Avanziamo Avanziamo Allerta infetti Questa è la mia parte preferita Questa del tower defense La trovo gradevole L'altra del clicking compulsivo Un po' meno Però vabbè Ah posso avere Lacking squadra? E voi Lacking Aveva le torrette infuocate Erano broken Se no Perché voglio Lacking squadra E dimmi un po' Ma scusa ma Come non ho lacking? Non me l'ha data prima lacking? Allora è il caso di dirlo Sono proprio un lacking Devi pagare? No ma sta morando il cane No Cane Gioca safe Cazzo Ok dai Questa è l'ultima ondata Ce la possiamo fare Pum 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 No Guarda il cane Guarda il cane Guarda il cane Dai ce l'abbiamo fatta Lesgo Vittoria Dicevo Abbiamo trovato un sacco di personaggi Dice? Non abbiamo trovato nessun personaggio Te lo giuro Non abbiamo visto un personaggio Ma che dici? Ma che dici? Ma te lo giuro Vai dal centro eroi Guarda gli eroi che abbiamo Eh Oh Pro metti questa Beh Ma sei pazzo Nanami Perché Sarà Nanami Guarda anche il pugno della Riot Non è Nanami È vero Vabbè Non so A me è Nanami Nanami Non è Nanami No eh Non è Nanami Sicuramente è Nanami Oh Qual è che roba? Ma perché non è Mettila Tutti i miei upgrade le do Livello 10 11 12 Ok Allora Sì è vero Ma come la metti in squadra adesso? Poi lei? Candy Candy oppure Ma perché le fanno tutte in minigonna? Come vai a combattere un apocalissi zombie? In minigonna bro Vabbè la minigonna è comoda Alla fine no? Cioè non d'altro posto di mini Promotivo Cioè penso Sì è più scomodo questo Che questo Disse quello che mette le minigonna Tutti i giorni vero? No credo Credo Però Magari mi sbaglio Perché lo metti lui? Perché Nanami? E Rodog lo metto Ah Ok Lo metto Rodog in squadra Aspetta Ok vai No Come si c'è la squadra? Non fare una squadra con quelle due Ecco Come si sceglie La squadra? Non ho capito cazzo Sarò là Eroi Non abbiamo Vabbè Il selezionamento è andare a combattere Allora bisogna andare a combattere Perché voglio fare una battaglia? Vedere l'abilità di Nanami Attacchiamo qua Marciamo Torniamo l'accampamento Poi Pumarolle da raccogliere Feriti da guarire Poi Truppe da destare Vediamo la minigonna di No Non voglio accelerare Ripariamo Abbiamo sgombrato l'aria Soccorriamo Sgommata Ok Spaliamo Siamo d'accordo che la categoria è stata aggiornata Vero? Siamo d'accordo Che la categoria è stata aggiornata in precedenza Ok Marciamo No Come sconfitta Non mi sono accorto Scemo Lo devo prima alzare la merda Aspetta Cortex Se l'ho detto io Non puoi dire le mie stesse cose Ok Vittoria ora Aspetta C'è Candy No Jane Ma perché c'è Jane? Ma chi lo vuole Jane? No Sta lì Sta lì Sta lì Guarda Perché sono Ah Quindi qui posso mettere Mike Ma a noi non ci interessa Mike Mi sembra un po' good face Mi sembra È livello 1 Mike Siamo Candy Ma non hai Non hai level upato Candy Lo facciamo dopo Intanto possiamo marciare così Perché non mi fanno marciare così? Perché? Marcia Clicco marcia o marcia? No Eh no Questo è un altro Ero è assegnato Ma le vogliamo vedere È qua che si vedono È qua che si vedono Ecco Stai su Però è rischioso questa? Non con la nostra No Andiamo Ma è rischioso Eh ma Anche le stelle Queste No no lui Ok Livello 1 L'ha aggiunto Ma forse lei è a livello basso Ma però lei non la posso fare salire qua Qua sicuramente sì Ora ci dovremmo essere Ok Forse si può Faccio un po' questo Miglioro un po' di robe Miglioriamo le pomarole Sempre importante Ma tra l'altro È che ora abbiamo iniziato Perché lo vuoi sapere? Solo per sapere Oh Dopo dobbiamo fare un po' di Pulizia nella nostra base E per fare il livello 8 Cosa ci serve? Laboratorio Centro eroi Migliora Ok Poi Qua ci sono dei reward Ancora sono a livello basso Che palle Senti ci provo lo stesso Vai Proviamoci Ma questo ovviamente va a mili range Visto che sono una katana Siamo d'accordo? Non sembriamo essere molto forti Oh Clone Ah questa è l'abilità della Ma non ho selezionato l'eroe giusto Mi sa come secondo Oh Pare forte però Questa abilità Del clone La mettere avanti Però non so se mi conviene Oh Diciamo che però Sta andando bene così Quindi Guarda il volle di Ash Dove lo voglio mettere? Qua Guarda Sponiamo una copia E perché non Non mi ha convinto Si Oh no No Ma cazzo Eh adesso Eh no Adesso metto la torre Che tanca un po' No Siamo stati sconfitti Però in realtà Per poco Perché queste erano le ultime unità Erano queste Questa roba C'eravamo quasi Dobbiamo prendere un altro po' di upgrade Mi sa boys No Sbagliato Scivolone qua Ma che è sto cosa? Non capisco Ah Questo si trova le cose Ok Ti dà i reward Ti dà Cosa vuoi dire? Soccorriamo Hop Salve Ehm Attacchiamo questi Che dovrebbe essere easy Torniamo qua Cosa dobbiamo prendere? Un po' di reward Delle missioni Signore che mi danno Catch Mi danno Vedete Vai i classici reward Ehm Qua raccogliamo Le cosine Oh Possiamo addostrare rover Ah possiamo fare nuovi edifici Ufficio telecomunicazioni Guarda abbiamo probabilità Esco Ah Devo costruire altre robe Devo costruire Eh sta facendo Ehm Facciamo un altro di questo Facciamo altri affari Oh altre pummarole E Altra fabbrica munizioni Possiamo vedere altre robe Salviamo questi Picchiamo questi Ah Stanno ancora tornando Dalla mia base Ok Devo prima tornare Dalla base Hello Ricerca avanzata Ricerca epica Posso potenziare i miei eroi? Allora Questa non l'ho utilizzata Prima ho sbagliato Il problema è che Prima non è entrata in campo lei Ecco quale è stato il problema Ok Che me la posso potenziare Un altro po' di eroi Penso No Vabbè Faremo dopo Vogliamo vedere Se ce lo facciamo adesso Ancora il potere È salito di pochissimo Cacchio Signor fantasma Nuoverò Grazie Grazie Ma lì non mi casa Particolarmente Che devo fare però Cioè se lo posso mettere Come principale Sì Se no Se no non mi casa Vabbè questo mi dà Pomerole Questo legno Diamanti Cibo Diamanti Di cosa stai parlando? Chiaro Chiaro Questo è per spostare L'accampamento Ok Le truppe non si addestrano da sole Scusa A destra Sicuramente quella parte Non No lo posso fare Cosa? No no Ma anche il link Non c'è bisogno di fare niente Tutto quello che non c'è richiesto Non lo facciamo Raccogliamo questo Redimiamo questo Ok Ah no Ma quel link L'ho messo Dai ancora Non ce la possiamo fare Aspetta Ma devo cambiare Una squadra Lei deve essere sostituita Perché non posso selezionare Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ora ce l'acciamo Ora ce l'acciamo Sono più ducioso Ora ce l'acciamo Te lo dico Ora ce l'acciamo Anche se è difficile Ora Ora lo battiamo Allora questa cosa fa? Dobbiamo vedere Qual è il potere dell'altra Ma posso spostare solo lei? Manca il cuoco Sì Servia Roddog Servia Questa cosa fa? Ok Ok Questa abilità costa zero Cosa fa? Avvelena? Sì tipo Vabbè fare forte comunque No Non sono convinto Queste torrette Ce la facciamo Ce la facciamo A questo lo battiamo Abbiamo perso Un'eroina Ma ce la faremo Ragazzi Sì proprio Un secondo Let's go Let's go Becca Non era consigliato Ma l'abbiamo fatto Sì la torretta All'abitare Il tipo L'avevo capito Ovviamente Grande vittoria Grande vittoria Non mi ispira Anche Ce l'abbiamo fatta Boys Punto informazioni Boh Andiamo qua Attacchiamo questi Zombies Mentre torriamo All'accampamento E Vediamo un po' Vediamo un po' Che bella pancia Che hai Curiamo le nostre unità Dani Ah se dà la risposta Giusta Ti dà degli upgrade Immagino Ma in realtà Di risorse Ne abbiamo Parecchie Oh ma Level up Quanto ci manca Qua Laboratorio Level 6 Ah dobbiamo Trovare Sti robbi Qua Questo L'abbiamo Preso Ok Microscopio Preso Dobbiamo Fare Questo Ok Vai Ci siamo Ah questo Va sfidato Così Ah devo semplicemente raccogliere le cose Ah c'era lì Eh Hai ragione Raccogliamo il loot Ma Ok Fatto Allerta infetti E' certo che sono schillato Mi faccio pregare Ma non sembra facile questa parte E' però guarda Guarda Nanami Guarda che roba Guarda Capiamo Nanami 1v9 Clone Dai 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 Ok abbiamo Avvocato il clone Ce l'abbiamo fatta Ma non è stato facile Più Questo slow Mi sembra GG GG Grande vittoria Adesso possiamo fare livello 8 Vittoriano in base Aspettavo prima Ma non me l'ha dato Come non me l'ha dato Vero Grande rollata Ma forse stanno tornando Quindi devo attendere un attimo Mi sa Mi sa che devo aspettare un attimo Però O miglioriamo anche lui comunque Bovrino L'abbiamo un po' maltrattato Ecco qua E lei è rimasta indietro Perfetto Abbiamo lei Eh Ecco Lei Eh Siamo già felici così E questo può anche aumentare di grado A differenza degli altri Perché richiede punti Nabi Che abbiamo A Bizzeffe Infatti il nostro livello è aumentato notevolmente Ma le mie truppe stanno tornando oppure no? Non capisco Dove c'è che sono le mie truppe? Non ho trovato quello che mi serviva Devo dire Non usare il coso? Sì No Non questo Questo Ah Dovevo cliccare su completata Chiaramente Ok Ora ce l'abbiamo Devo Prima riparare questo Ce l'abbiamo fatta ragazzi Saluti a lei Saluti a lei Oh Adesso possiamo sviluppare tecnologie Let's go Potenziamento strumenti Oh vai Vado vado Poi Ah Sì a cosa serve lo sperare Per rianimare le truppe Non lo so Brava mi sembra strano Ok Questa l'abbiamo completata Prendiamo altre truppe Vai Soccorriamo questi ragazzi Gli eventi Gli eventi Gli eventi Centro ricompense Set di crescita Expedizione Altre altre Ma qua c'era Della schifezza Nella nostra base Ma è pieno di schifezza Ma com'è Ma Staviamo tutto Ma che Ma era qua No Così non si può Inaccettabile No ma Ma che siamo Gli eventi 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 E beh Vedi dove Sì Prendi un tanti reward No no Tu devi solo cliccare Allora se la smarfi Ce la fai Non avere paura vai Comunque c'è un altro reward Da prendere vai Subito Beh effettivamente L'abbiamo potenziato Quindi la torretta Anche dovrebbe essere Ma perché la torretta Non sta tancando Sì Considera anche Il range No ma di mettere La vita di Anami È broken Secondo me Se la metti In range Dove Anami È totta È anche meglio Se la metti Vicino qua Così lei Intendo L'abbile Il clone Sono due cose Eh ma Così lei Non ci arriva lì Eh no Devo criticare Qua Ho bagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Cioè perdiamo Contro I saltatori Perdiamo Vabbè Appogliato Oh Guarda Quanto Cos'è raccogliere Ma l'ospedale Non l'abbiamo Mi è migliorato Sto po' L'ospedale Vuoi migliorare Un po' L'ospedale Vai Subito Per un paio Di volte Eh Ciao No Che stai facendo Non limiarò Nessuno Cogli tutto Let's go Da qui Ciao Ottimo Bene Bring him back Ma il centro di compensa Non l'avevi finito Te lo dico Ma non era qua Allora era In quello accanto No Non era qua C'è un Promozione giornaliera sotto Ah Queste sono le promozioni Giustamente Se si chiamano così Forse c'è un motivo Ma tra l'altro Siamo pieni di robe Nello zaino Da utilizzare Mi sa Siamo pieni di Robette Da utilizzare Nello zaino Ma questi Possiamo lasciare così Ma aumentare Quelli che non utilizzi Ti potenzi a livello Forse sì In realtà Forse è questo Nuovo Questo nuovo Dai vedi E guarda quante cose Devo utilizzare Ma questo è il quartier generale Il 15 Cibo Ce l'abbiamo fatta? Un survivor Si è unito all'alleanza? Sì Eh no ma Unito mi sa che è appena scaricato Deve fare il livello 7 Ragazzi Chi è? Al fra Chi è boys? Un solo livello 7 Chi è l'eroe? Chi è l'eroe? Chi è il nostro eroe? Ma è tipo tremenda Non mi interessa Ma l'hai vista? Ma è bellissima Ma la nostra base Sputafogo Come se fosse Un concerto Metal Let's go Hai visto? Abbiamo aiutato Quelli dell'alleanza Dei veri friends Grandi su World Art Online UV sempre UV Ma andiamo avanti Lasciamo perdere l'alleanza Se vuoi cliccheggiare Vuoi eh Ma potenziare l'eroe Che non utilizzo In mia mente Il potere Di battaglia A me sembra Vabbè magari La utilizziamo Capiamo Ma questo abbiamo fatto Pure il cadetto Ma non ha senso Allora ho sbagliato tutto Bene Quindi ho praticamente Sprecato le cose Che avevi raccolto Eh ma va È successo un disastro Costituiamo Dei nuovi oggetti Ragazzi Non posso Posso fare Dei aceri Ancora Basta Basta Andiamo a fare il boss Invece Sfida No volevo cambiare l'altro Non mi convince Candy Mettiamo Ma Candy è l'unica Che c'ha Il coso broken Ma scusami Guarda Ma guarda che danni Fa questa La vedi Adesso è salito un sacco Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Guarda che ce l'ha questo Allora prima cosa Torretta Qua in front Poi dobbiamo spawnare questa Qua Così lei è in range di auto Poi Ma questa Ok Range limitato Ma non l'hai cambiata Non l'ho cambiata Ho rimesso la carcela Sì Forse devo mandarla più avanti Sarola Perdiamo dei saltatori Perdiamo dei saltatori Ma perdiamo per caso Dei saltatori Oh no Godo Come abbiamo perso i saltatori Come abbiamo perso i saltatori Dai ragazzi I saltatori non si può perdere Ma in poi non si può mica perdere Dei saltatori Aspetta 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 Dobbiamo usare questo qua E questo Attacchiamo questi Marciate Ecco Devi mettere Serve un tank Serve un tank Ehi Ti l'ho detto io Solo qua Boom Boom Vai Ci siamo Ce lo facciamo adesso Abbiamo potenziato un po' di strutture Aspetta Sai anche un po' il potere di battaglia No Perché Ha una corporatura Molto resistente Più pomeroli per tutti La miglioria di queste invece Laboratorio È veramente terribile Ok Ce la faccio È rischioso dice Non cambiare quello con la tua erretta Sei pazzo Non posso mettere Vai No però mi serve anime Scusa Eh no Non la puoi cambiare Che disastro Vabbè Allora così dai Proviamo Secondo te tanka Secondo me tanka Boom Stuna pure Ok Forte Almeno lui ha senso che stia in fronte A una differenza di lei Che Sono misogliore Eh però Vabbè non c'è fiamme Eh però Vabbè non c'è fiamme Stonks Sì Oh è fortissimo questo Dritto Siamo potentissimi Ma perché non usi quella da 0 0 Io usi di resistenza Sì sì Anche Guarda non perdiamo dai saltatori di nuovo Perché sennò È un problema Siamo sicuramente il forte di prima Oh bro 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 No non morire Stanno il chill Stanno il chill Ma ci sono ancora troppo andate Ma la torretta La torretta Ma è trollato Facciamo Spero di sì Ce la facciamo Let's go Si riusciva anche a me E il wifi Non puoi dire Sì Cioè Poi Adesso si ragiona ragazzi Ma fai fare a me ora No già ho Questo è forte però eh Questo è forte È questo Quello di prima no Di prima fare No questo è tipo il doppio di forza In che senso No rispetto a quello di prima però No eh Vabbè pulisco Non ti preoccupare pulisco Scava un po' Scava un po' Scavo scavo Guarda Devo andare a prendere l'azione Da bere Prego Salve Salve Non vi preoccupate Tutto sotto controllo Live Tutto Ma soprattutto Ah Schermo intero Io non ho fatto niente Stava così bene F11 Mamma mia che fastidio Vedere Ma la cosa che a me più tilta È vedere lo schermo Cioè Parte del desktop Anche perché ovviamente Mi viene Fossi un'aspettatrice Mi viene voglia Di analizzare le cose Sul desktop Tipo Oh mio dio All'icona Beh Non importa Detto questo C'è qualcuno Da potenziare? Tipo Dove Stai? Lui No Non si Puede Non si Puede Ah Caspita Immagini Zot Sul desktop Il mio supporto Ah È il tuo supporto eroe Chi gli posso mandare? Ma Se io gli mando Un supporto eroe Lo posso comunque usare? O Quello che gli mando Non lo uso? Cioè Se tipo Gli mando Non so E ho sempre detto Desktop Non so dove hai sentito Desktop Un tipo a caso To A post Ho anche donato Per la gilda Ho anche aiutato Tutti Assurdo Aridaie A riguardo No Non penso No No Non credo Oh Possiamo fare Il level up Di tizio Facciamo il level up Di tizio Do sta? Do sta? È qua Level up di tizio Do sta il tizio? Qua Qua Let's go Facile Che ho detto? Eh Ormai Fortissimo E Che devo Corriere? Au Che cosa sto facendo? Non ho la minima idea Di quello che sto facendo Let's go Abbiamo trovato Abbiamo trovato Un coso Per upgradare Di nuovo L'eroe Yeah Ricerca epica Ma io non sto capendo Perché continua A venirmi Questo uno Sugli eroi Che devo guardare? Guardo questo Wow To Migliora Ciao To Che devo vedere? Smetti Di farmi vedere Quella notifica Basta Non la voglio più vedere Il primo Il primo? Dici? Ma no No Io ci sto andando Perché non li posso vedere I pallini rossi Però Ero è impossibile Ah Ridaglie Basta Talenti Oh Aumentiamo Non abbiamo mai aumentato Queste cose Armi sfolgoranti Usa punto Una volta l'abbiamo fatto Combattimento Corpo a corpo Ci interessa? Sì perché abbiamo Quello Abbiamo armi Ma quanti punti ho? Punti talento Uno Ok Vuoi su armi sfolgoranti O combattimento Corpo a corpo Sfolgoranti Sì siamo Siamo sfolgorantosi Sì Confermo Collezioni Ma le ho fatto un altro livello Le ho fatti due No 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 Due Ah no Però aspetta Hai sommato? O è solo Solo full screen? Solo Solo full screen Aiutatemi A migliorare la roba Anche se penso Che userò Abbiamo tanti Livello 8 Let's go Caserma livello 8 La nostra è livello 5 Federamento Vai No no E quelle 5 minuti mancano Ah non ce ne frega niente Sono una criminale Hai ragione Scusa Perdonami A volte sono Un po' Eh Ma quindi Manco questo? Questo è 50 minuti Poi ma Mi sembra Annese No Infatti Non ci interessa A noi ci piace Aspettare Ma adesso La facciamo questa? Hai visto i c***o I capelli Ma hai visto quanto potere avevi? Beh ora ce la facciamo Toretta Toretta L'altra No ma vicino all'altra Scusa Ma stai cliccando Ma avvicina il cicciotto Eh? Avvicina No non lì Ah dici Avvicinalo qua Ci sta Ma perché la devo mettere vicino all'altra? Perché? Meglio 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 Aspetta Guarda adesso è vicino all'altra No No Non sembra facile Non sembra facile per niente Guarda lì Che roba Ma me l'ha messa Sì Non abbiamo stamina Eh ma è forte Questo era il boss Guarda lì Ah Ci sono gli ultimi Però ce la puoi fare forse Eh vediamo Madonna Oh Gesù Eh vabbè Dai Abbiamo Abbiamo combattuto bene però Secondo me si può vincere Secondo me si può vincere Ma Vabbè intanto facciamo A questo metà dopo Ma io li ho potenziati No lo so mi sembra falso Ho fatto i livelli Al cuoco Ma che è qua? Poverini Ma questo è di livello basso Puoi fare auto Questo Auto No grazie Non è stato difficile Non è stato Facciamo la verità Allora Redimiamo queste robe Qua c'era No ma dove era Qua era Vedi Vediamo nella saccoccia Cosa abbiamo Ah Queste cos'è Ah Questa è la ricerca L'ho già fatta Vedi Vedi Stonks Ah tu le Ora forse possiamo Gradare Ho detto una sciocchezza Evento ricarica Per caso abbiamo Il quarantesimo Livello 7 Ce l'abbiamo chat Capiamo Ce l'abbiamo chat Ma io non voglio Decorare le cose Ho un po' Della luce Te la metto Avete tempo fino a Domani pomeriggio Alle 3 In che senso? O forse Tempo fino a domani mattina Alle 8 C'è un pallino Rosso sui eroi Che mi trigger Non riesco a capire Qual è Non siamo Eh lo so Lo so Lo so che c'è un pallino Rosso e non abbiamo Capito C'è anche Joker Perché c'è Becca C'è anche Becca Spedizione anche Dice sempre cose Ma questi erano da lutare? Sì Lo erano Va bene Se mi ricordo Dove si fa Sicuramente Ho terminato Quei robino Affatto Dov'è questo? Questo è tipo Strautile Vai che prendiamo Altre truppe Vroom Ok Ora li ripartiamo a casa Ma che sta a fare? Vediamo Poi Questo Marciamo E guarda quanti siamo adesso Assurdo Possiamo rollare? Ma qua stiamo picchiando questi Immagino sia terminato ormai Piu 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 Yes Dovano farlo Maledetti Ti piacerebbe giovarci eh? Sì Mi piacerebbe essere la quarantesima a livello set Sì 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 eh Solo che poi la Sbarbate tutta Ho cliccato degli affari ma Non sono sicuro fosse la play Ma no ma che su questo tipo di livello 1 è schifo Ok Ora va un po' meglio Certo che è tutta un'altra roba Ma non saprei Forse era meglio prima Questo gli sta facendo La caserma Ma perché si può upgradare una sola cosa alla volta? Tipo Siamo impazziti No non di nuovo Sono stato scammato 50 volte Fa decorazioni vedi Ecco cosa Lui mi Mi sta chiedendo di piazzare No basta Sono stufo di piazzare queste cose Faccio io se vuoi Ho il clic No no grazie Abbiamo anche il falò Abbiamo Ma il nostro potere non cresce mai Di un cazzo Upgradi Scusami ma prima hai fatto la spedizione eroica Vai Che ho fatto prima? Dici che si può fare? Boh magari hai preso No Intanto prendo questi Minerva delle battaglie Vado pure a fare questi Andiamo agli eroi Dici che si può upgradare? No Niente Non ho questi Così qua Ma forse ce li ho Ma No non credo No No Devi rispettare Questa si Ah Cosa ci dà le skin Vedi Cosa ci dà i negozi Capsule Dei Eri compri Aspetta ora andiamo a vedere Intanto Qualche click Sarebbe bellissimo Ok Raccogliamo anche questi Sai cosa facciamo Spedappiamo Questo qua Eroi 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 Che devo fare eroi Non posso fare niente eroi No Ma costano tipo un botto No no Sono me è follia no Le nostre biocapsule Teniamocele strette Veriamo un po' il quartier generale Miglioriamo pure questo No ma non ve lo sarei quelli Ho trollato Vabbè Caracimena è solo l'altro La caserma Velocizziamo Oh vedi Adesso Ci siamo Livello 8 Ecco Velocizziamo Di un'ora Ma rimangono 4 minuti Ok allora aspetteremo Abbiamo fatto il livello Non l'abbiamo fatto Su Let's fucking go Ma questo raccoglie Ok È in cooldown Chiaramente Va bene Qualche reward da qua ce lo prendiamo Oh ma quanti Oh ma quanti Oh ce l'abbiamo fatta Che è un sacco di risorse Questo lo dobbiamo usare Sempre broken No il vecchio afflitto mi dispiace un sacco Vecchio afflitto o non bello Cassetta dei soldi Su questo c'era l'audio Sul resto non ho capito perché Ah no Semplicemente un survival versione Dall'alleanza È il futuro livello 7 Proprio lui Chi è Chi è Chi è Chi è Questo mi dice Cose Lei non capisce niente Mannaggia Ma quale verità Mannaggia La verità Esatto 20 secondi di livello Noi boys Siamo rapidissimi Siamo Fonks Adesso siamo No non voglio accelerare le truppe Scusa Anche se in realtà Acceleratori Penso che siano solo per le truppe Vorrei dire sciocchezze Banco nota in fiamme Abbiamo Domani mattina alle 8 O domani Domani mattina alle 8 Perché Potrebbe essere tranquillamente Ma io penso Domani mattina alle 8 Credo quello sia il nostro Sì Qua c'è il nostro Livello 7 Ce l'abbiamo fatta boys Chi è stato Let's go Non so chi sia stato Ma Il salvatore è giunto Ne mancano solo altri Su 110 ragazzi Altri 70 70 in 7-8 ore E' 40 A me si asce 110 Anche se non dovrebbe essere 110 Sì in teoria è 40 No Sponsorizzazione Finisce tra poco Quindi Abbiamo dato Abbiamo dato Siamo contenti così Allora noi Vi Sconsigliamo Vi sconsigliamo Di fare più account Oh livello 9 Guarda là Guarda là Adesso possiamo fare Il garage Miglioriamo Il garage Mi sconsigliamo 4 5 E adesso ci vuole tempo Vabbè 20 secondi Li possiamo aspettare 6 20 secondi Li possiamo aspettare Vabbè Giustamente Vabbè Dai che ce l'abbiamo Questo Let's go Addestriamo Ah no Devo addestrare Queste gnocche Devo Ale Si diceva C'era scritto Gnocche? Sì No 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 Non sia mai Stavo usando questo Di un'ora Per 40 secondi Ok Guardiamo Le nostre Eroità Sempre importante Possiamo Potenziare Eroi Adesso È giusto? No Limite Livello Eroi raggiunto File upgrade Stretto Eroi Eh ma Ci vuole tempo Qua ragazzi Andiamo qua Andiamo qua Andiamo a prendere Stireward Va Andiamo a picchiare Sto boss Guarda lì A questi tipo Le one shot Boom Siamo presi Questo Aspetta 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 Voglio attaccare Questo Ok E riscattare Questo E A livello 16 È vero Ci ho cliccato sopra Tipo così 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 Ah questo lo possiamo potenziare di grado? Broken questo dai Il boss? Sì Vai È tuo Vai È tuo Vado a picchiare Aspetta Ho redimato un po' di affari Ma ancora? Ma Ah ma perché è sempre lo stesso Del campo che avevo livellato Ok La medaglia viola diventa broken Quindi devo far fare un altro livello Eh si può Vai a fare il boss va Vai a fare il boss Vai a fare il boss No 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 I nostri bio Sono triste Sono molto triste Ora è secondo tenente Questa promozione era broken Siamo stati scammati Delle nostre bio capsule La chat è d'accordo Ma io non te tu riesci a farle Vabbè Vabbè va Vai 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 andiamo Infatti i nostri bio Sono stati spesi in alberi In alberi Giacci Non è affatto vero I nostri bio punti Sono stati spesi con Sì Partimonia Moderazione e partimonia Ma ce la fai Ce la fai Solo 50.000 adesso Siamo sicuri Vai vai Spacchi Allora però le torrette vicine Al centro E poi stunnola quella Ok siamo un'altra torretta Un'altra torretta Vai Ok Facciamo una spilza di torrette Li possiamo rallentare Perché è zero costo Bomba la bomba Su quegli altri Bomba la bomba Bomba non ha range Sì Beh però Alto mi sembra Adesso si ragiona Adesso si ragiona Sì Sì Eh ma già abbiamo vinto Qua Pem Pem Facile Facile I nostri Rewards Vedi vedi Vortex mi aveva detto Vedi Vortex Anche perché ci stava Perché era la promozione Grossa Era la promozione A master Possiamo riparare Sgombrare un'altra area E fare Cos'è questa La chiesa Riesco a capire Punto di raccolta Bene Qua ci sono altri boss 32.000 320.000 Non so quanto è Aiuto Ok Possiamo guarire Le nostre unità Per fare questo Garage al 9 Abbiamo detto Andiamo Questo ogni volta Mi confonde Non si chiamano gnocchi Angeli Fortissimi angeli Let's go Questa L'abbiamo Completata Questi sono Tipo Broken Fatti vai Orologio Di lusso Angelo Ah Fantastica Mi sei fatta male Quando sei caduta Fammi raccogliere le cose Dallo Zaino E Guarda lì Siamo pieni di materiali Centro di riciclaggio Non è che fa tutto Che sei Cosa Centro di riciclaggio Non è che sta No Ti butta le cose Ti butta Allora Nuovo livello Comandante Cose Questi li possiamo usare Le chiavi della moto Ma Le skin Un bellissimo cupone Può essere comprato Per le skin Allora Voglio Negozio biocapsule Arnaggia a te Era broken È diventato broken Ma dove sono le skin Ma mi hai detto Una bugia Eh sì Ma che diamine Vabbè ti ha detto Che le puoi usare Per comprare le skin Ti ha detto Inmate per il corpo Ci sta Posta Posta Hai la posta C'è posta per te La raccogli Raccogli tutto Non c'è altro Qui riscattiamo Qui riscattiamo Penso che Ci siamo Boys No piove Ma il gax Fa caldo E tipo Di pomeriggio Si sta O chi era Quella Jennifer Ah L'ho vista Sai Eh sì Chi era Quella Jennifer Stato VIP Skyraine Non mi stai rispondendo Chi era quella gente Ma l'ho vista No lo so Stava lì Ma che è Stai pazza Sfidiamo questi E Allora il mio accampamento Sempre pomodori Sempre Guardi Guardi Unità Migliorie Siamo a Napoli Migliorie A Bumarò Migliorie Anche questo Purino Abbiamo un po' E basta Il radar Così trovi Così Ah se ce l'ho Vessi non stupato Mezz'ora Basta Ma sei impazzito No sì Basta Allora Io ti spendo Le biocapsule E per fare questo Garage livello 9 Garage livello 9 Boom Cinque minuti No No per cinque minuti no Qua siamo In marcia In marcia Two War Sì andiamo Questi E basta E questo L'abbiamo già Migliorato Ospedale Che livello è L'ospedale 5 In fondo a destra Radar 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 Qua dice Devi Ah vai No Stonks Penso ancora di più No posso fare niente Ok Ok Aiutiamo l'alleanza Aiutiamo Jennifer Jennifer ha apprezzato La mia assistenza Grazie Grazie C'è 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 Qua livello 17 19 E vabbè 18 18 Massimo Oh Adesso possiamo fare il boss È proprio lei Mettiamo Jennifer White sure possiamo fare il boss Perché è rosso Non lo so Mi dà fastidio pure a me Perché è rosso Non capisco Non lo so Qualcosa Tutti Te lo giuro E ho aperti tutti Non lo so Che cos'è Ho tiltato Perché puoi potenziare blu Non li potenziano Li stiamo usando Ma puoi perché L'esperienza blu Nelle stesse L'esperienza bia La capito Ah ok Lo faccio a tutti Così magari si leva A sto robo Ale che Hai cambiato scena Ah Che stai a fa Scusate My bad My bad Non lo so Non lo so Ancora rosso Alessandro I suoi ocd Ce l'abbiamo fatta Sì Vittoria Road rat Anche le abilità Si possono potenziare Le abilità Non ho ancora talento Ma l'abbiamo fatto Solo che Ma che Ma quanti ce ne avevamo Perché ne avevamo Un botto ne avevamo Ma le abilità Dei eroi Si possono potenziare Vai a vedere Perché io voglio Si rodoga Le abilità Vedi Ma richiede Richiede knowledge No Possiamo fare niente Oh Discount Si Cioè Allora Donazioni Se Se volete Che acquistiamo Capiamo Basta un gift Uno Ok direi che Siamo pronti A fare il boss Come si combatte Ora lo vedi Malgax Vai la sua base Puoi scaricare il gioco Ma non c'è bisogno Abbiamo già raggiunto Quello che dobbiamo raggiungere Capito Però ti invito comunque A scaricarlo Perché è molto divertente Ah ecco Oh Facciamo anche questo Vai Vai vedere Dove sei che ti attacco Oh Ma che cacchio dici Scemo Attacca Ecco il boss Lo vado a spaccare Malgax Anche se il suo potere È 387.525 Il mio è 133.000 Ma Non ti preoccupare Che Stai tranquillo Penso di riuscirci Aspetta che sto Carburando Sto No sto Cucinando Guarda che comunque Siamo arrivati a tre ondate Su sei Coda sferzante Ma boys Dobbiamo potenziarci Prima di fare queste Temo di sì Quasi No ma c'eravamo quasi C'eravamo quasi Sì sì è close Qua siamo in marcia E Il garage L'abbiamo quasi USA No Compre USA Il cazzo Così mi bioparchi Sembra bellissimo Volevi dire Alla fine Un piccolo tower defense Però Beh devi potenziare Anche la base Non è too bad Non è too bad Questo lo possiamo levare Garage Livello 8 L'ultimo livello ci siamo 14 minuti Non posso stare Lo speed up Mannaggia per farlo Bene Questo pacchetto Non ci interessa Ho preso un po' di Biocapsule Oh Tempo di acquistare Ma qua nel profilo Questo è Il rank 1 Word C'è qualcosa di rosso Manuale di Scamma sempre Questo Porca valetta Ok Questo anche L'abbiamo un po' migliorato Questo richiede tempo Questo richiede tempo Questo richiede tempo Questo No ma non lo posso fare Oh sono tornati ragazzi Oh Stà la missione Il radar livello 6 Boom Ora Ok sto Guarda quante foto Sì però Mi sta facendo cliccare Un super mostro Hello Andiamo a provarlo Vai Questo ci dà Un drop leggendario Andiamo Ecco Forza consigliata 7000 Che devo ricercare Eh ma Una cosa alla volta Qua la situazione è lenta Vabbè Dobbiamo aspettare Questo ci mette 11 minuti In realtà Posso fare questo Intanto Ma i miei beni Stanno tornando Non ho capito No nemmeno Che stanno facendo Perché non posso fare quello Soccorso riuscito Facciamo pure questo Al volo Sta accanto alla base Ok No ma io volevo fare Quelli del radar Che ci dà truppe Oh ce l'abbiamo fatta Stanno marciando Eccoci Andiamo The war Eeeh Non credo sia passato Quando abbiamo iniziato Boys Mi ricordo Boom 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 Eh qua ci dà un giotto Legendario Stonks Vittoria Quindi se ora clicco Qua Eeeh Poi Qua Dovrebbe No Raccoglie Becca Abbiamo forse Sbloccato becca Non sto capendo perché Ma è ancora in vita Non capisco Ma che cazzo Guarda dimmi un po' di robe No no Si intendeva Mi sono tornato indietro Hanno detto Hanno detto Faco Ma che Non lo so Non lo so Non ci giurerei Salve signor piscio Oh Lui Costriamo questa Costriamo questa Costriamo Qua mettiamo sviluppare tecnologie Qua possiamo sviluppare Tant'abbiamo detto che non 3.000 di queste Non ce l'ho No Questo dottore Devo utilizzare Lo vediamo Livello 9 Boom Livello 10 Anche livello 12 Livello 12 Non ci fermiamo Let's Fucking go No ma Ormai siamo forti Ormai siamo forti Ma non avevo le biocapsule Non bastava Ah forse Beh Forse effettivamente Sì Qua sviluppiamo Qualche sviluppino Fa sempre comodo Come su Catan Non ne parliamo Possiamo anche parlarne Non possiamo Perché? Insisto Ok Ci prendiamo questo Soccorriamo Siamo sempre gentili Bene 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 Piccoli reward Piccoli reward Anche qua Hai perso Non è vero Beh Evento ricarica Qua non c'è niente Da aprire Vabbè vabbè E spostati Va Torniamo alla base Mega Supravalutate E Capiamo Capiamo Forti anche quelle Dipende Dipende dai Qua devi migliorare Ci mette due ore E mi sa che con queste due ore Possiamo chiudere E lasciarlo riposare Boys Oh sì abbiamo fatto Sì sì Deve solo Sì sì Ma va Ma abbiamo iniziato più di due ore Abbiamo iniziato Ma metti che poi Lo rifacciamo domani Ma probabilmente domani Sì ragazzi Mentre siamo in coda Io qualche sviluppo Lo faccio Intanto metto a fare degli angeli Sto controllando Eh infatti Ancora non l'ho da aggiornato Per questo Continuerei Ma no ma si aggiornerà Da solo Sarà un po' in delay Beh intanto carichiamo questi Boys Poi localizzerò Guarda erano qua Invece di spendere quei soldi Mannaggia a te le biocapsule No no Non voglio spostare il mio quartiere generale Ma che c'è che vuoi Allora scusa Prova Prova a livello appare gli eroi E fai Dai Lo sto aumentando Livello Guarda Guarda qua Dai Questa va fatta E non c'ho questo Comprane una Comprane una Sì Ho fatto Vai Serve il centro del l10 Ma porca E non hai accelerato Un'ora Eh no non ne ho altri Non ne ho trollato Neanche un'ora Secondo me ce la possiamo fare No ora è 200.000 Ora ce la facciamo Ce la facciamo Quest'ultima si stacca Si va a letto Ce la faccio guys Ce la faccio La torre è qua Sun Lo Poi Seconda torre è qua Scriviamo Questo a sinistra Eh non è facile Però Non mi giudicare Non mi giudicare È fortissimo Sto boss Hai got this Non ci arrendiamo Siamo arrivati A 5 andate Riprova Riprova Però posso dire C'è ancora Della schipezza È una vergogna C'è pure qua Guarda Lo sai dove è ambientato Oh Un po' meglio No Malgax Lui dice Avanti Per calmare Possiamo provare dietro Magari Malgax Ha avuto l'intuizione Aspetta che recluto No Non recluto Riproviamo A fare sta battaglia Aspetta Vediamo se posso potenziare Il mio livello d'attacco Magari gli altri Ecco qua Fatto Ma se cambiassi Fusca Cambiamo Cambiamo Ero Aspetta Ma è Bruken Quella che tira Le Quella che solo tira Su l'oe Effettivamente Forte Però se mettessi Lei Fa più danno Ma meno utility Jane La play Jane Ci fa vincere Jane ci fa vincere Te lo dico Guarda Aspetta Guarda Jane mette la recensione Sicuramente è forte Lo so Però sarà forte No? L'ho messa Guarda Ah ma Tank e ball Eh però Aspetta È forte la recensione No perché La recensione È la play Oh quanto tank Ha sto coso Carriati i pianti Prima Ah E dai C'eravamo quasi Ma questi Non ho Non male Non male C'eravamo quasi Ragazzi Vabbè ma Pazienza Va bene boys Dai Ci aggiorniamo Pausa 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 Dai ci aggiorniamo Domani ragazzi Non gioco a lol Perché sono stanco Cioè questo gioco Mi ha stremato Abbiamociuto un sacco Di zombie Comunque Le spalle Sulle spalle Pesa Quindi penso Che riprendiamo domani Oggi ho stremato Un po' di meno Abbiamo fatto Sette ore e trentacinque Domani Stream regolare Poi dobbiamo capire Se vogliamo fare 12 ore di streaming Per quando c'è Il sub gift scontato Se troviamo Un escamotage Per rubare Dei sub Dei sub E dei sub gift Dai L'old è per finire Concesso Aspetta Dai È concesso Campioni di oggi Campioni di oggi Campioni di oggi Cain Aspetta Maschio Anche giungla Mana Corpo a corpo Nocturne Lei nocturne Colpo a corpo Allora Allora Eeeh A mummu Oh Oh Guarda là Ha avuto l'intuizione Nessuno può fuggire Dalla propria ombra Zed Zed Ascolta Nessuno Può fuggire Dalla propria ombra No Anche non l'ho fatta Stupida Dimostra le vostre Reali capacità Questa È la Potrebbe essere La Q di Urgot È una pallottola No non è una faccia È una pallottola È la spell di Grace Che gira Sì È però L'ho letto dalla chat Ah è la Q Non è nemmeno Pensavo se La spell Pensavo se La smoke bomb Kartus Donna Morte Eh? No Rex è che c'entra Non fai leggere la chat Ok Eeeh Kindred c'entra qualcosa No Aspetta 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 Ce ne sarà uno facile Ce ne sarà Teschio Teschio donna Chi è? Boh Ma chi cacchio è? Ma non è Kindred Spada Spada Ma il teschio ci entra Irelia No perché lei era con La Sì no Irelia Ma La morte comunque Cioè Il teschio Se non è che quel teschio Mi sto confondendo Katarina Cioè ma Samira No Fantasma Qua in stealth Evelyn E però perché Catene No ma perché le blank Cioè Perché c'ha Che cazzo è? Ma poi la spada Ah Calista Calista Eh ci sta La chat sapeva Calista Ma non era qua Ci sono arrivato Sì Questo mi arrendo Qua è Dispito rosso Che No non so nemmeno Quale sia Questo Sam Sapeva Dispito rosso Potrebbe Ah quella di Giallo Bravo No no Lo sapevo No lo sapevo E vabbè 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 Magari domani Ripiacciamolo Oltre Vediamo Potrebbe essere stato Io a letto Ah io ero Clueless Riguardo questa Ero abbastanza Clueless Boh Dai Dai Vado a dormire Boys Che sei fatto tardi Grazie Per la mannina Col giochino Ci becchiamo domani E cerchiamo di scalare Ancora un po' Domani attacco Ragazzi domani Massimo Ma esagerando Alle 9 sono live Ma puoi stare zitto No domani massimo Alle 9 sono live Facciamo un torre di streaming Poi Dopodomani Cioè quando c'è il subgift Diamo di fare 12 ore Vediamo un attimo Organizzare Cosa del genere Ciao Fati bravi Ciao Perché non smezzo Non credo di smezzare Ciao